Con un po' di uva fresca del mio giardino e dei kiwi andiamo a preparare un succo detox post vacanza per cominciare con il piede giusto l'attività lavorativa. Per questa ricetta servono 300 g di uva nera di acini e 300 g di kiwi. La procedura è molto semplice andiamo a pelare il nostro kiwi che giusto vi faccio un appunto il kiwi va pelato quando viene utilizzato nell'estrattore in quanto tutti quanti questi peletti che ha sulla buccia passano attraverso il filtro e poi li ritroviamo in bocca una volta che ci beviamo il succo quindi danno fastidio. Tagliamo poi il kiwi in quattro in modo da agevolarne poi la spremitura. Non ci resta che estrarre il succo. Con uno scarto così umido come questo potete anche fare una seconda estrazione e se è ancora umido anche una terza. Ogni estrazione che farete ovviamente il succo diverrà sempre più denso. Ecco pronto un bicchiere di salute.